C'è un po' questo allarmismo riguardo alla sicurezza, Torino, terrorismo, quindi diciamo che questa nuova iniziativa potrebbe essere anche nata da quello, quindi penso che da una parte si sta esagerando però anche dall'altra a quanto pare sarà sperimentale, vediamo come sarà insomma. Penso che sia un evento culturale della tradizione torinese e che sia giusto mantenerlo come tale, forse si potrebbe risparmiare sui fuochi d'attificio ed investire in altro. Potrebbe essere un'alternativa interessante evitando quindi diciamo più che altro i problemi legati poi agli animali domestici, vedremo, ecco. Quindi prima di creare polemiche aspettiamo a vedere, poi si deciderà dopo se è stato uno spettacolo fatto bene oppure se forse sarebbe stato meglio rimanere fermi ai fuochi d'artificio. La tradizione rimane però è giusto che comunque vada superata. La tradizione si porta avanti in modo diverso, si può modificare il modo di festeggiare una tradizione, l'importante che si festeggi una tradizione.